Mi è capitato spesso di essere chiamato come consulente da attività che volevano magari ingrandirsi e dire ok, Mario è una piccola pizzeria d'asporto con pochi tavoli, lavoro bene, penso che sia il momento di fare un passo in più, di andare oltre. Va bene, quindi va a riprendere un locale molto più grande, mettere più tavoli, quindi per la nostra percezione di andarmi a mettere in un settore superiore, perché penso di meritarmelo, penso di essere in grado di. Quando parliamo di fare il passo più lungo della gamba possiamo riassociarlo a questo discorso, nel senso, non è detto, e bisogna vederlo poi sulla carta e sui numeri, non bisogna ragionare di stomaco, ma con la testa ragionando sui numeri, non è detto che facendo quel passo e magari vendendo anche qualcosa in più o incassando qualcosa in più, io guadagni di più, o soltanto e esclusivamente magari, non è detto assolutamente, o magari più rischi, più personali, quindi più persone da dover pagare, più responsabilità, costi più elevati, bisogna vedere tutte queste cose in più, tutti i più che mettiamo sui costi che abbiamo, quanto incideranno, quindi che marginalità potrò portarmi in base a una statistica che io ho già acquisito, e allora ti dico, ok, non so se ti conviene, rischi magari di investire un capitale, quindi spendiamo 100.000 euro, ok, 150.000 euro per fare un nuovo locale, mi devo spostare, ho maggiori costi, quanto potrò vendere, ok, vediamo al massimo della nostra produttività dove possiamo arrivare, la risposta di espressione è dico, vabbè, prendo più persone, nuovo costo, quindi bisogna alzare di nuovo la produttività, ok, è direttamente proporzionale la cosa, e non è detto che tu guadagni di più, è soltanto palesemente investito tantissimi soldi, hai rischi elevatissimi, responsabilità sulle persone, perché i dipendenti sono responsabilità anche, e non è detto che tu guadagni di più, ma vuoi guadagni la stessa cifra di prima, soltanto hai mille più pensieri, mille più problemi, mille più rischi, ok, per quello non bisogna ragionare di stomaco, è successo anche a me, cioè noi abbiamo più locali, ho un piccolo locale che noi volevamo trasferire, perché diciamo, cavolo, lavoriamo tantissimo, ok, pensa se abbiamo anche quello, se abbiamo anche quell'altro e tutto quanto, poi dopo un'attenta riflessione, era fondamentalmente un rischio, un mettersi in gioco su un qualcosa che è già funzionante, perché rischiare di, ok, piuttosto vediamo quel capitale, che quindi magari noi abbiamo o abbiamo magari una linea di credito particolare che ci permette di poter investire quella cifra, di fare un altro investimento, ok, quindi apro un nuovo locale, ok, magari uguale a quello che già ho, magari in un altro paese, in un'altra zona, con una particolare densità popolare, vado a fare una nuova attività, è vero che tu dici, ma se li sommi, i costi, è come quello da averne uno, ok, però ho due attività, ho due possibilità di vendita, posso prendere un mercato diverso, posso offrire prodotti diversi, volendo, ok.